Continua l'azione di Fira, la finanziaria regionale al sostegno delle micro, piccole e medie imprese dei professionisti abruzzesi. Negli ultimi due anni sono state portate avanti insieme alla regione misure già in essere, rifinanziandole ma anche ideati e realizzati nuovi fondi e bandi volti a rispondere alle esigenze più stringenti delle imprese e dei professionisti. In due anni abbiamo finanziato 6200 aziende, abbiamo messo a terra l'incirca 81 milioni di euro, abbracciando tantissimi settori merceologici, quindi dal turismo, le piccole e medie imprese allo sport. Con questi bandi che abbiamo messo sul territorio abbiamo gratificato tante aziende che hanno fatto richieste con fondi perdute e anche strumenti finanziari. Abbiamo messo a terra queste risorse con diversi bandi che hanno riguardato lo sport, hanno riguardato il turismo, hanno riguardato le piccole e medie imprese. Nello specifico sono i bandi che hanno riguardato il caro energia, il piccolo prestito, Abruzzo Freestart e Restart fare imprese che ha riguardato le aree del Cratero 2009. Tra le iniziative più rilevanti quello del piccolo prestito che riguarda la concessione di contributi in conto interessi a tasso zero all'impresa abruzzesi per prestiti da 10.000 a 15.000 euro con un fondo totale di 5 milioni di euro. Sì, il piccolo prestito è nato a seguito dell'emergenza Covid che poi abbiamo sagomato anche a seguito dell'emergenza che è stata causata dalla guerra con l'Ucraina. Abbiamo fatto un piccolo prestito che ha riguardato le piccole e medie imprese, soprattutto rigadendo nel settore turistico al berriero e della piccola ristorazione. È stato un bando che ha avuto un grandissimo successo, abbiamo avuto oltre 450 richieste che hanno coinvolto all'incirca un impegno di spese di 5 milioni di euro. Nel mese di settembre usciremo con le gradatorie e sarà un bando che a mio avviso avrà molto più successo se riusciremo a ulteriormente rifinanziare con altre risorse. Per essere informati su tutte le novità che la FIRA sta portando avanti? Per essere informati su tutte le attività ci sono i social che aggiorniamo quotidianamente oltre che il sito internet nella sezione bandi e risorse dove praticamente l'utente, un professionista, un imprenditore può decidere e selezionare le aree di interesse e andare ad analizzare quali sono le opportunità di FIRA della regione Abruzzo e della comunità europea e dei vari ministeri.